Oggi 20 febbraio 2018 siamo qui a Cremona nella sede della Farm Consulting con il suo direttore dottor Enrico Milanesi. Milanesi è uno storico collaboratore di Rominanzia fin dai suoi esordi per tutti gli aspetti legati all'economia, ai mercati, per tutto ciò che riguarda i conti economici che vengono necessariamente, speriamo, fatti in agricoltura. Nelle prime settimane del 2018 Rominanzia ha organizzato in collaborazione con la Farm Consulting un ciclo di conferenze la cultura del conto economico, abbiamo fatto un incontro a Roma, ne abbiamo fatti due a Cuneo, uno a Lodi e uno a Cremona e a breve ne faremo uno in Veneto, stiamo organizzando il luogo e la data. Questi incontri, appunto da questo titolo un po' particolare, la cultura del conto economico, sono stati anche l'occasione di presentare un software che è stato sviluppato dalla Farm Consulting e che ha un curioso nome Erco che poi chiederemo a Milanesi qual è il significato. Adesso tre domande sostanzialmente. La prima domanda, la Farm Consulting è una società indipendente, quindi che non ha legami commerciali di vendita di prodotti se non servizi, quindi è una società indipendente di consulenza e assistenza in agricoltura ed in particolare negli allevamenti di vacche da latte. Perché ad un certo punto ha voluto sviluppare un software? Dunque, perché l'obiettivo della nostra attività è sempre stato quello di aiutare le aziende a migliorare o a produrre il reddito nel caso non lo avessero. Dunque, se questo è l'obiettivo occorre anche avere degli strumenti che lo misurino. Da qui non si può avere l'obiettivo di arrivare ad un certo punto e non misurare se a quel punto ci si arriva. Per cui abbiamo sviluppato un'attenzione a strumenti che fossero in grado di misurare il reddito. Lo facciamo da qualche anno. La complessità delle situazioni che abbiamo via via affrontato ci ha portato a guardare sul mercato cosa era disponibile sul mercato. Abbiamo anche provato in alcune aziende alcune soluzioni, però non riuscivano a metterci nella condizione di essere efficaci quanto volevamo. Per cui abbiamo deciso che valeva la pena di dedicare del tempo, tre anni che lo stiamo facendo, per sviluppare un software che fosse esso stesso in grado di condurre chi legge i risultati a valutare se stesso e a prendere delle decisioni in merito ai risultati più o meno soddisfacenti che il conto economico evidenzia. Perché si chiama Ergo? È una storia curiosa. Ergo è la traduzione della parola quindi, la traduzione latina della parola quindi. Perché sostanzialmente tra di noi quando frequentiamo le aziende c'è sempre qualcuno che dopo un'affermazione di principio qualcuno di noi, diciamo ormai anche scherzosamente usa sempre la parola e quindi? E per cui è diventato un po' il motivo conduttore che diciamo un po' scherzosamente che accompagna la nostra attività. Vuol dire che esiste sempre al di là di tutte le affermazioni che si possono fare esiste sempre un momento del quindi, cioè esiste sempre un momento nel quale c'è una decisione ulteriore da prendere dopo aver fatto tutte le considerazioni del caso su un problema. Il problema per essere risolto ha bisogno di una decisione e questa decisione è quindi. Anche il conto economico è un quindi, cioè è in un certo qual senso un punto d'arrivo ma nello stesso momento è un punto di partenza per prendere ulteriori decisioni, per migliorare ulteriormente e sempre senza in modo incessante, senza mai fermarsi, l'efficienza e diciamo la tensione dell'azienda a produrre reddito. Dottor Milanese abbiamo notato negli incontri che abbiamo fatto insieme di presentazione della cultura del conto economico che lei si ha soffermato e ha speso diverso tempo sull'aspetto dello sviluppo del conto economico per rami d'azienda. Questo ci ha molto colpito, perché questa puntualizzazione? Perché sostanzialmente più noi riusciamo a spacchettare i dati, meglio riusciamo a guardare l'azienda e a definire quali sono i problemi che in quell'azienda è opportuno affrontare. Mi spiego con un esempio di questo tipo. Esistono sensibilità diverse all'interno delle aziende, per esempio in una situazione quella più semplice tra campagna e stalla. Non possiamo far finta che d'anglais per definizione che la stalla e la campagna abbiano gli stessi risultati o condividano gli stessi risultati. Per cui per dare un nome, per risolvere un problema è opportuno dargli un nome. Questo spezzettamento verticale delle aziende in rami d'azienda serve a definire o a localizzare l'efficienza dell'azienda in un settore piuttosto che in un altro, in modo da focalizzare maggiormente le attenzioni in un settore piuttosto che in un altro e a questo legare poi delle decisioni. Faccio un esempio. Nel caso in cui la stalla sia un settore particolarmente efficiente, essendo tutte le aziende in una condizione di risorse limitate, non si può investire nel segmento A, B, C, perché non si può investire contemporaneamente da tutte le parti. Bisogna scegliere dove investire e definire qual è la priorità sia negli investimenti, sia nella focalizzazione, sia nel lavoro, sia nell'approfondimento è fondamentale perché serve a definire delle priorità e serve anche a definire dove pensiamo di arrivare rispetto al lavoro che stiamo facendo. Un'ultima domanda. La cultura del conto economico non è soltanto possedere un software, possedere un sistema di raccolta di quelle che possono essere tutte le voci dei costi e dei ricavi, ma nel caso in cui all'interno di un allevamento o meglio di un'azienda agricola e nei suoi tanti potenziali rami d'azienda c'è qualcosa che non va, sia nei costi che nei ricavi. La farm consulting come si comporta? Dunque, certamente possedere un conto economico non significa aver risolto i problemi, certamente anche per risolvere i problemi occorre dargli un nome, occorre definirli, occorre circoscriverli, per poterli affrontare da una volta, per cui il conto economico dal mio punto di vista o dal nostro punto di vista per l'esperienza che abbiamo è un elemento fondamentale nella gestione di un'impresa agricola, in verità lo è anche per ogni impresa presente sul mercato a prescindere dal settore economico. Una volta che il conto economico, grazie in questo caso al software che abbiamo sviluppato, propone esso stesso un'analisi dell'efficienza aziendale, per esempio propone una suddivisione oltre che in rami d'azienda, all'interno di ogni ramo d'azienda, propone una suddivisione per centri di costo. Faccio degli esempi alimentazione, utenze, manodopera. Quando un titolare riesce a definire per ogni ramo d'azienda, per ogni centro di costo, qual è l'incidenza per l'itero di latte, piuttosto che per vacca munta, diciamo che queste informazioni inducono o conducono il titolare dell'azienda a prendere decisioni. Per cui se uno vede che l'incidenza della manodopera nella sua stalla è più alta, decisamente più alta rispetto ad altre, è chiaro che deve focalizzare maggiormente l'attenzione in quel versante. Viceversa nell'acquisto degli alimenti, piuttosto che dei farmaci, piuttosto che di seme per la fecondazione, diciamo in un elenco di centri di costo, diciamo che sia ordinato e coerente. Una volta che il titolare dell'azienda ha in mano queste informazioni, è gioco forza che il titolare dell'azienda stessa sia attivi per coinvolgere chi già gli dà una mano nella gestione, mi riferisco al veterinario, all'alimentarista, piuttosto che ad altri consulenti presenti in azienda, in modo da affrontare il problema economico che il conto economico avvisa. Nella pratica poi si può fare tanto lavoro, questo lavoro può essere fatto ripeto attraverso i professionisti presenti in azienda, ma anche attraverso un'attività più rivolta alla capacità di acquisto delle aziende. E da questo punto di vista noi abbiamo sviluppato un'esperienza legata ad un gruppo d'acquisto che abbiamo creato, che è un gruppo d'acquisto virtuale, che aiuta le aziende che fanno parte di questo giro a confrontarsi o ad avere delle condizioni di accesso al mercato tra le più interessanti che sono possibili.